Sì, Matera crocevia di importanti decisioni a livello globale. La città dei Sassi è pronta ad ospitare domani il G20, il forum dei ministri degli estri dei paesi più industrializzati al mondo. G20 che è ufficialmente cominciato poco fa alle 19 a Bari. Il titolare della Farnesina Luigi Di Maio nel Castello Svevo sta accogliendo i capi delegazione. Sono attesi 500 delegati dei paesi che parteciperanno al vertice qui a Palazzo Lanfranchi. La città è praticamente blindata. E allora vediamo i temi al centro del confronto e le misure di sicurezza messe in atto con Nicoletta Soave e con l'inviato Umberto Avalone. Ancora qualche ora in Matera sarà almeno per un giorno al centro della politica internazionale. Si sono dati appuntamento qui 500 delegati in rappresentanza di 31 ministeri degli esteri e di 42 organismi di cooperazione. Sono i membri dei governi delle principali economie del mondo. I paesi che fanno parte del G20 rappresentano infatti più dell'80% del PIL mondiale e il 60% della popolazione del pianeta. Tra gli altri, atteso anche il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Riuniti a Palazzo Lanfranchi, i ministri degli esteri discuteranno di salute globale, sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici. Ma il focus sarà anche sulle relazioni con il continente africano e sulle sue prospettive di sviluppo. E poi sicurezza alimentare e nutrizione per l'obiettivo zero fame entro il 2030. Sarà questo il tema al centro della riunione congiunta dei ministri degli esteri e dello sviluppo. La dichiarazione di Matera ribadirà poi l'impegno del G20 nel costruire sistemi alimentari resistenti e sostenibili. E così la città dei Sassi si prepara a un grande sforzo organizzativo. Stazione, centro storico e Sassi sono aree sottoposte a sorveglianza speciale. In tutto sono impiegate circa mille persone, tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. Attivati servizi antiterrorismo, unità cinofile anti-esplosivo e anche squadre di tiratori scelti. Gli sforzi sono per una Matera sicura per tutti, per gli illustri ospiti, per le delegazioni, ma anche per la cittadinanza. E' accogliente il necessario perché le delegazioni si trovino bene, abbiano a lavorare in piena serenità e sicurezza e abbiano di Matera un ricordo bello e positivo da portare a casa. Che cosa si sente di dire anche ai cittadini che inevitabilmente stanno subendo e subiranno dei disagi? Un minimo di sacrificio e di intralcio alle attività quotidiane e ordinarie sicuramente ci sarà, insomma lo capisce chiunque, il Materano questo lo sa. A fronte di questo c'è l'onore, l'orgoglio che la propria città, il nome della propria città sia conosciuto in tutti gli angoli della terra.